E ora ci occupiamo delle strade provinciali con l'abbrodo, pronta la risposta della provincia di Catanzaro. Un mezzo passo in avanti è stato realizzato per coprire le buche dell'arteria stradale provinciale che da San Vito porta alle porte della città di Chiaravalle. Sapevamo il buonsenso e la volontà del Presidente Amedeo Mormile, sempre disponibile a risolvere i vari problemi e per un certo senso qualcosa ha risolto. Basta vedere le condizioni della strada, un lavoro fatto sicuramente con i piedi, dalla ditta che ha cercato con qualche sacchetto di bitume freddo a tappare i vari pericoli che la strada porta. Bisogna fare capire a chi sta in alto che la vita delle persone che transitano in questa strada sono soprattutto ciclisti e centauri. Non è il caso di qualche automobilista che chiede i danni per un cerchione rotto oppure una gomma scoppiata. Bisogna intervenire con più aggressività e rifare tutto il manto stradale e dopo controllare se uno taglia l'arteria che la rimette nelle stesse condizioni di com'era prima dell'intervento. Noi continueremo a segnalare i vari pericoli che le mani dell'uomo hanno creato. Noi continueremo a segnalare i vari pericoli che le mani dell'uomo hanno creato. Noi continueremo a segnalare i vari pericoli che le mani dell'uomo hanno creato. Noi continueremo a segnalare i vari pericoli che le mani dell'uomo hanno creato. Noi continueremo a segnalare i vari pericoli che le mani dell'uomo hanno creato. Noi continueremo a segnalare i vari pericoli che le mani dell'uomo hanno creato. Noi continueremo a segnalare i vari pericoli che le mani dell'uomo.